Sta buttando via una trasmissione Scusatemi vi devo salutare perché li devo andare a buttare La cultura per la democrazia è semplicemente ridicola Guarda, ho colpito ancora una brutta, brutto insetto che mi girava in fronte Io mi amare mie, c'è un giudice che si fa, la lotta alla pura Ciao ragazzi, eccomi qua, vi do il benvenuto sul mio canale ufficiale di TikTok Arrivo stanco ma felice, non vedo l'ora di cominciare a lavorare